Una felice serata a tutti voi da Marcus, buon venerdì sera, buon inizio di fine settimana a tutti e sempre un caloroso saluto a coloro che sono nuovi e visitano il mio canale, ai quali consiglio di iscriversi. Allora ragazzi, il 90 è arrivato a Milano, come vi dicevo, e le somme 90, perché è uscito questo 90? Tutte le somme 90 che c'erano fra Milano, Napoli e la Nazionale, in poche parole, doveva far sì che questo 90 doveva uscire. Poi, attenzione, le condizioni, dico sempre quelle retro, quelle indietro, 15.75, 2.88 che prende l'incrocio su Napoli, attenzione, adesso Napoli dovrebbe diventare la ruota di primaria importanza, perché abbiamo visto che Milano ha dato, ma Napoli è quella che riceve le altre somme 90, quelle indietro. E poi, ovviamente, il 90 di Torino, con l'ambatta contata, arriva di nuovo Milano-Napoli. Milano ha già dato, Napoli si prepara ad ospitare, o si dovrebbe preparare per aspettare il 90. 22-29, 56-90, ancora raccomandato specialmente per Napoli e Nazionale. Le altre due ruote di riferimento in aggiunta, le andremo a vedere piano piano, sono due ruote in alto, Cagliari e Firenze, perché Cagliari e Firenze? Perché lo andremo a vedere, perché hanno l'analoga situazione con Milano-Napoli, in situazioni di somme 90. E poi, ovviamente, questo va a finire su Cagliari e Torino. Torino ha già dato, questo punta su Cagliari, questo punta su Milano. L'ambatta contata vi ho fatto vedere più volte sul mio canale che cos'è. Ogni numero è spia di se stesso e a distanza di colpi si riflettono sulle ruote, sia di arrivo e sia alla loro gemella, quindi quella in risposta, di riflesso. Allora, il 90 arriva a Milano. Come vi dicevo, questo 90 ritorna a Milano-Napoli, questo 90 ritorna su Cagliari e Firenze. Questo è un nuovo schema, adesso vi faccio vedere che schema che ho fatto per quanto riguarda il Napoli e il Cagliari, perché è importante questa situazione. Allora, Torino ritorna a Napoli, questo di Milano, che è uscito ieri, va a finire a Cagliari. Perché vi dico Cagliari? Perché oltre ad arrivarsi l'ambatta contata, è poi Torino che va a finire a Napoli, quindi abbiamo Cagliari-Napoli, la nazionale ovviamente per il 22-29 e il 56-90, ci sono le somme. E adesso andiamo a vedere queste somme. Eccole. Allora, il 5 di aprile, quindi questa è la situazione di ieri sera, giovedì, ma questa del 5 aprile, quella di martedì scorso, ha valore a quello che vi ho detto poco fa, quindi 14-76, 15-75, due ruote che hanno la somma 90 sulla ruota stessa, ma questo che collega Cagliari e Firenze è questo, 86 centrale con il 4 centrale. Allora, queste situazioni in giallo sono le probabili situazioni dove il 90 dovrebbe cadere sulle ruote, quindi che vi ho appena indicato, Cagliari-Firenze, ci va l'ambatta contata e poi ovviamente le somme. Ecco perché adesso possiamo parlare di un Cagliari-Firenze-Napoli-Nazionale. Praticamente la classifica nel 90 riguarda questo. Cagliari-Firenze-Napoli-Nazionale. Ruote primarie Cagliari-Napoli, Firenze-Nazionale, ruote secondarie. Le posizioni per il 90 probabile su Cagliari sono queste, la seconda e la quinta posizione, su Napoli la prima, la terza e la quinta posizione. Guardate, fatevi un screenshot, come vi consiglio sempre di fare, per vedere se il 90 poi andrete a giocare dove volete voi. E poi ovviamente abbiamo visto poi in Firenze con le prime due posizioni del 90. Andiamo a dare un occhiato un attimino alle frequenze importantissime. Questo fra l'altro il 56 di Napoli, che guardate un attimino, questo è il, se andiamo nello schema di ieri sera, il 29, come vi dicevo, ritorna Milano-Napoli. Quindi il 22 si è fatto vedere, non vuol dire, il 56 non c'è ancora, il 90 non c'è ancora su Napoli. Ecco perché vi dicevo ancora 22-29-90 e col 56 specialmente a Napoli. Milano ha già dato ruota Napoli e Nazionale, con quella giocata che vi ho fatto vedere già nei giorni scorsi. 22-29, 56-90, Napoli-Nazionale. Sino a quando si dovrebbe giocare questa previsione? Sino a che il 90 non dovrebbe comparire o su Napoli o sulla Nazionale. Io preferirei più Napoli perché il 56 ancora su Napoli non è uscito e questo 29 ritorna Milano-Napoli. Detto questo, ragazzi, allora la situazione del 90 è questa. Cagliari-Firenze-Napoli e Nazionale. La Napoli-Nazionale ancora con il 22-29, 56-90 almeno, almeno, fino a sino a martedì prossimo. Se esce domani sera meglio ancora, si stoppa lì e finisce lì. Mentre invece il 90, il 90, nuovi che dovrebbero cadere su Cagliari-Firenze, le situazioni di importanza sulle posizioni sono quelle, ok? Seconda e quinta posizione, prima e seconda posizione per Firenze. Prendete nota, fate uno screenshot di questa pagina e vi ho detto praticamente tutto. Cagliari-Firenze-Napoli-Nazionale. La previsione con il 10. Allora, perché il 10? Perché volevo ricordarvi che ieri la previsione, quella su Telegram, è uscita al nono colpo di gioco. Io sotto mano ho un foglio che mi dice chiaramente tutti i colpi di gioco. Io li insegno piano piano e diligentemente, perché per vedere, per non tralasciare i colpi di gioco. Allora, il 17 di ieri su Palermo è uscito, lo andiamo a vedere, il 17 su Palermo, questo, è uscito al nono colpo di gioco. Il 10 di Torino è il nono colpo domani sera. Quindi vi consiglio ancora, io almeno consiglio ancora ruote di Torino. Attenzione, perché prima è arrivato l'1, poi è arrivato il 90. Attenzione, il laterale è l'1, quindi era il 10. Andiamo a vedere, guardate, ancora il 10 non è arrivato, è arrivato l'1, ma sapete che ha la matta contata, poi ritorna su Torino. Quindi l'1 ritorna a Torino, quindi può girarsi in 10. La frequenza c'è tutta, andiamola a vedere un attimino con l'8++, rispolveriamo sempre questo meraviglioso programma, che consiglio sempre di acquistarlo. Chi può, o più avanti nel tempo, se avrete l'occasione, compratelo, perché è eccezionale. Ogni ruota ha i 90 numeri, e ogni 90 numero, ogni 90 numeri sono controllati da questo bellissimo programma. Le frequenze, lo sono le frequenze, che è quella che vi permette di andare a vincere su ruota fissa. Allora, Torino, andiamo sulle 600 media di estrazioni, Torino 10, ecco come si presenta. Allora ragazzi, vi ricordate, quando arrivi ai limiti di uscita, probabilmente il numero può dare il suo esito. Quindi andiamo sulle 1.000 estrazioni, andiamo proprio alle origini del 10, non proprio tutte le origini, perché non siamo dal 1871, ma siamo a un po' più di metà percorso, quindi nelle 4.000 estrazioni, 3.000 estrazioni circa, dai. Allora, questa quale è situazione attuale del 10? Guardate, siamo ai limiti di uscita, quindi attenzione a questo 10, perché il 10 non è ancora uscito con quella cinquantina. Andiamo a vedere un attimino tutti i fotogrammi, c'è la lambata contata, c'è il nuovo lambata contata con l'1, poi c'è la somma 10, c'è un'altra somma 10, poi la somma totale che adesso non è ancora adatta, e poi l'1, vi ricordate, su Torino, che può di nuovo ritornare come 10, perché la lambata contata è spesso e volentieri ritorna col suo vertibile. Quindi il 10 con i suoi abbinamenti, ancora per domani sera, ve lo consiglio, 10.51, 10.54, 10.55, 10.59, 4 ambi secchi, ma qui si parla di una sola ruota, quindi non è che giocate tutte su due ruote, è nazionale. Qui si parla di una sola ruota, infatti su Palermo avete vinto l'ambetto, perché vi siete potuti permettere, chi di voi, alcuni di voi, di giocare l'abbinamento, scusate, l'ambetto, come possibilità di uscita, e quindi avete vinto anche l'ambetto, chi ha potuto, perché non si è giocato due ruote tutte nazionali, si è giocato una ruota fissa. Ora su Telegram ho dato una nuova previsione, sempre su ruota fissa, e poi ovviamente chi può tutte nazionali, però utilizziamo solo una ruota, come in questo caso Torino, e come vi dicevo, ieri sera è uscito il 17 a Palermo, che era una condizione data su Telegram, al nonno colpo di gioco, domani Torino ha 9 colpi di gioco col 10, e quindi ve lo consiglio ancora sabato. Il 90 vi ho detto tutto, il 10 vi ho detto tutto, su Telegram ho lasciato i commenti, vi ho lasciato lo schema, di quel meraviglioso numero, su quella determinata ruota, la solita decina, in riferimento come abbinamento, per tentare ambi secchi, terno, quaterna, ok? E anche cinquina, va bene? Allora, non devo aggiungere nient'altro, la situazione del 90 rimane tale, e quale, con le ruote in riferimento, abbiamo detto, Cagliari-Firenze, Napoli, e Nazionale, ok? La Napoli ancora con il 22, 29, 56, 90, e anche la Nazionale, 22, 29, 56, 90. Poi ovviamente il Cagliari-Firenze, io vi ho dato la diritta per quelle due ruote, ovviamente i abbinamenti li farete voi, perché tanto ieri ho visto che vi siete beccati, un ambo secco a vostro piacimento, con il 77 e il 64, che avete fatto una vostra scelta, per quanto riguarda gli abbinamenti. Tutto qui ragazzi, ancora una buonissima serata a tutti, e ovviamente, per chi è nuovo, consiglio di iscriversi al canale, troverete sempre l'iscrizione sotto al video, iscriviti, campanellina, per ricevere tutte le notifiche, dei nuovi contenuti video, qua sul canale di Marcus Lotto. Vi ringrazio a tutti, ancora una buona serata, e un aloe a tutti. Ciao ancora da Marcus.